Lei che tiene tanto la sua coerenza, Presidente Meloni, non menta agli italiani. Dica la verità, al Parlamento Europeo voi non avete votato il Next Generation EU. Astenersi in Parlamento è qui, significa non far passare il Next Generation EU e PNRR. Se fosse stato per voi non l'avremmo avuto. Onorevole, le devo chiedere di concludere, ha sforato il suo tempo. Onorevole, le devo chiedere di concludere, ha sforato. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo. Grazie. 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 Grazie.